come fa ma come è possibile avere tutta sta gente così ecco Rashid come stai stai fumando ok siamo alla follia ah ti ha fregato un accendino ah gli avessi fregato tu non era il tuo cioè non gliel'hai rubato bravo si si è Rashid lo conosco con la combo 20 euro pallina ma non so non sparano le palline qua minimamente a quella di ieri si l'ha scritta qua adesso si si questa adesso l'ascoltiamo scusa faccio scontare la sentita per il accendino rubato bravo no non lo fare fregare ah vuoi fregare giusto metà uomo metà danna pelato del cazzo nooo la vuoi ascoltare da solo? ah sediti qua vieni nooo però non ti distrarre ho un mese c'è qualcuno che riesce a fare il suo buon ritorno non si riesce a capire un cazzo io boia la vita è un'esperienza è certo ho un mese che l'ho mangiato non vivuti non si riesce a capire un cazzo io ce l'ho già messina boia mi ha detto che aveva fatto un freestyle e gli gli avvis tu hai fatto il matto mi raccomando ci vediamo stato e dicevano che tra un po' ti danno le chiavi meno male sei contento? mamma mia a me non disturbo nessuno ah si era finita come va di dietro ma non c'è sentito metà uomo metà donne metà donne nooo non sai chi che ha detto uno no nel cartiere di Ginevra uno uno metà donne uno guardia non è un un serio di cocco che ho l'ambra nooo nooo le rovena per metà donne come fosse cambiano due schi col vino non si riesce a capire un cazzo proprio voia non ho capito niente vivere è passato tanto che non si vive è passato tanto tempo questa è la mia cazzo trascinta ha bisogno di un'ambulanza questa è tu questa mi piace alexa riproduci vivere è passato tanto tempo alexa accendi sparabolle è perchè ve l'ho scammato un po' di volte ok scusate però non lo sente non so perchè non lo sentiva oh eccolo prima le mangio un po' sai le metti nel frigo quando sono fresche sono buone con le ciliegie e le sono andate a fare il culo buone buone si diciamo che sono leggere non sono pesate ma io mi doma ma dove trovate una live più baratrosa di questa al mondo no? sul web ma ragazzi se vi chiedessi un favore no perchè avrei da buttare la sforzatura a Vito ma la butti tu ma la butti tu ma cazzo tra i tuoi stimpi personali lui no con tutti i favori che mi ha fatto lui grazie ma la tua quanta roba ciao mamma sono famosa ok ci vediamo tutte le cere ciao manco ciao aspetta punto tutto tanto domani ci riposiamo e infatti GARIO DUNCLE 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 si da compiacere anche per me adesso chiudo dove è DUNCLE? beato a te che ti riposi DUNCLE 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 SIN CARRIE ciao e la candela si la candela la tengo sempre vedi ciao ciao buonanotte ciao mai dire male grazie io chiudo buonanotte ciao e adesso sono andata a fare il culo sono vetrina man sono vetrina man ciao 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 Grazie.